Si è chiusa la quinta edizione del Social Innovation Campus, la Presidente e a nome anche di tutto il Consiglio di Amministrazione sono contentissimo. La Fondazione Triulza è nata con l'Expo, è nata dal mondo associativo, dall'economia civile, siamo quasi 70-68 soci in questo momento e abbiamo puntato da sempre sui giovani, perché i giovani sono il futuro, i giovani sono il talento. Io dico che questo campus ha realizzato ancora di più di quelli precedenti diversi obiettivi. Siamo stati insieme tra coloro che vanno avanti con un metodo, con una mentalità, con un modo tradizionale e altri che invece sono innovatori, tutto il Paese insieme. Siamo oggi qui a Milano, abbiamo avuto presenze importanti da tutta l'Italia, alcuni erano presenti fisicamente, altri erano presenti lavorando a distanza, hanno fatto di fatto una giornata di smart working loro. Queste diversità, e ce ne potrebbero essere tanti, qui a Milano in questi due giorni abbiamo dato un segnale che possono stare, per quanto sembrino, uno distante dall'altro, uno quasi in opposizione, possono stare insieme. La complessità la affrontiamo. La Fondazione Triulza vuole aiutare questo mondo a questo cambiamento di mentalità, quello di fare le cose insieme, non facendoci le guerre, ma anzi al contrario cooperando.